Il fetto è un essere umano completo, pronto per affacciarsi alla vita. Egli ha già imparato dentro alla madre quello di cui ha bisogno per proseguire nei suoi apprendimenti dopo la nascita. Questo, scrive Giulia Cremaschi Trovesi, capo scuola della musica terapia che lei appunto ricordava, ha spinto Barbara a dedicarsi al bambino prenatale prendendosi cura della madre. Lo ha fatto, lo dico io, per non essere poco elegante, lo ha fatto con garbo, suonando, cantando, ascoltando. Perché è così importante, fin dal grembo, la musica, la musicalità della vita? Nel grembo materno si radicano e maturano tutti gli apprendimenti futuri della persona e si radicano in questo momento. Tante volte ancora si pensa che un bambino nasca quando viene alla luce, ma i nove mesi nel grembo materno sono preziosissimi ed è davvero importante mettere l'energia, i pensieri e le intenzioni di noi genitori in questi mesi perché, ecco vediamo le immagini di alcune letture musicali, perché sono momenti prediletti che segneranno davvero la vita e l'esperienza espressiva di ogni persona, ogni persona diversa dall'altra. Grazie.